DreamStation è un dispositivo per la terapia a pressione positiva delle vie aria per trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno. La dotazione dei dispositivi comprende borsa, cavo di alimentazione, alimentatore tubo flessibile, filtro ultrafine monouso e manuali di istruzioni. Un filtro antipoline blu riutilizzabile e una scheda SD sono già installati, un umidificatore e un accessorio opzionale. Per la terapia servono poi una maschera e una bretella per il capo. Per consentire preferenze individuali sono disponibili diversi stili. Non ci vorrà molto per configurare il dispositivo. Sollevare lo sportellino di accesso al filtro per aprirlo. Accertarsi che si trova già in posizione un filtro blu in grado di trattenere la normale polvere domestica ai pollini. Rimuovere il gruppo del filtro. Oltre al filtro riutilizzabili già installato nel vostro DreamStation è a disposizione un filtro extra fine monouso che fornisce un ulteriore filtrazione delle particelle molto sottili. Se si utilizzano entrambi i filtri, posizionare quello opzionale al di sotto di quello riutilizzabile e quindi incastrarli. Reinserire il gruppo del filtro nel dispositivo e richiudere lo sportellino. Per assemblare il circuito di respirazione, collegare un'estremità del tubo flessibile alla porta di uscita dell'aria. Se si usa un tubo riscaldato, allinearne il connettore con la parte superiore della porta di uscita. Premere il tubo riscaldato sulla porta di uscita fino allo scattare delle linguette nelle fessure. Il tubo non riscalderà l'aria a meno che non sia collegato l'umidificatore opzionale. Collegare l'altra estremità del tubo flessibile o riscaldato alla maschera. Se necessario, collegare una bretella alla maschera. Consultare le istruzioni della maschera per una corretta vestibilità e per la manutenzione. Per l'alimentazione, inserire il terminale del cavo di alimentazione CA nel alimentatore. Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa. Non utilizzare una prolunga o una pressa controllata da un interruttore. Collegare il cavo di alimentazione nella pressa sul lato del dispositivo, facendo corrispondere verde con verde. Accertarsi che la spina sia completamente inserita. Quando si accende il dispositivo, si vuol dire il logo Philips Respironics seguito dal nome del modello e quindi della schermata iniziale.